Un giorno dì, dobbiamo stare contenti. Vai. La serie è l'ideale per chi è molto stanco e vuole riposare. Oh, vedi. Ma è giusta la poltrona per chi vuole far salotto e chiacchierare. E' in comoda la macca per restare l'aria aperta, non dolore. Vai, Luis. Fantastico il divano per salire, sdraiati avanti alla tv. Ma, ma. Ma è il materasso, il materasso. Il materasso è il massimo che c'è. Ma è il materasso, il materasso. Ma è il materasso, il materasso, c'è la felicità. Meraviglioso è il cielo, per guardare e mettersi a sognare. E' anche la spiaggia, per potersi addormentare in riva al mare. E' un'ottima cuscita, se sul morbido la testa puoi posare. E' anche la spiaggia, per poterare da scientificità. E' anche la spiaggia, per poterare i mettersi a sognare. Ma è il materasso, il materasso è il materasso. Ma è il materasso, il materasso è il materasso, c'è la felicità.